Bottiglie di plastica al posto dei mattoni. Con il progetto Hide Bricks in Africa molte comunità guadagnano, riciclano e costruiscono, trasformando un'emergenza in un'opportunità. Attraverso Hide Bricks noi facciamo una raccolta fondi finanziando dei progetti che pagano le persone per raccogliere queste plastiche disperse nell'ambiente e trasformarle in dei mattoncini ed ili termoisolanti. Tutto questo è una tecnica molto semplice ma geniale che richiede zero energia e zero macchinari. Quindi queste persone possono realizzare questi mattoncini, con un prezzo fisso possono portarli nei nostri depositi, noi li paghiamo con un voucher spendibile in alcuni negozi convenzionati. In questo modo le persone possono avere un reddito aggiuntivo. Noi stiamo completando un software. Attraverso questo software noi vogliamo rendere ripetibile all'infinito questo progetto pilota. In modo totalmente gratuito. Ricordiamoci che questi mattoncini sono un sistema modulare che unisce la charity, l'ecologia e in più dà alle popolazioni la possibilità di costruire delle case o degli alloggi che possono essere utilizzati per scopi a grandissimo impatto sociale. Grazie a tutti.